Buongiorno, avrai bisogno di due biglietti per la metro. Pensa se adesso arriviamo là e ci hanno rubato la cappella Sistina. Mamma, perché le rovine si chiamano rovine? Perché sono rovinate? Sì, amore. Lea, bella di zia! Stiamo qua una settimana, va bene? Francesco, ti prego, cerca di capire. È una cosa molto importante. Più importante di me? Francesco? Maria? Ha visto due bambini? Ma questa è la strada per i musei vaticani.